Possiamo presto stare dentro? Come sta? Come sta? Sono un po' stanno. Un insomma, sembra rendendo? Come? Andrei in aula domani? No, domani non c'è aula, non credo, comunque no, mi hanno dato due giorni di permanenza d'aria. Quanto è la seconda? Questo governo si farà? Domani c'è l'udienza per il processo sui diritti di Putin Mediaset? Con la testa sulle spalle, non solo si farà ma si deve fare. È una cosa assolutamente necessaria e chi si sottraesse a questa responsabilità non avrebbe nemmeno più diritto di stare in politica. Arrivederci.